Chiedo al ponte e alle mie guide di assistermi in questa registrazione. L'oltre è sempre pronto ad accogliere le nostre richieste con gioia ed infinito amore. Ascoltiamo le loro parole aprendo i nostri cuori. In questo video ascolterete quanto sono attenti ad ogni cosa che facciamo. Grazie a tutte le entità che si sono presentate. Al ponte e alle mie guide che mi assistono in ogni registrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.